Ammontano circa 170 milioni di euro i beni mobili ed immobili e le partecipazioni a numerose società confiscate dalla Guardia di Finanza di Roma nei confronti dell'imprenditore gioiosano Pietro Tindaro Mollica, ex contitolare della SIAF ed attivo nel settore degli appalti di opere pubbliche su scala nazionale. Il provvedimento del Tribunale Capitolino giunge al termine di complesse indagini di Polizia Economico-Finanziaria avviate nel febbraio di due anni fa su delega della Procura della Repubblica della Capitale e che hanno permesso di portare alla luce l'esistenza di una struttura delinquenziale gerarchicamente organizzata e capeggiata proprio da Pietro Tindaro Mollica, il quale, dietro lo schermo di numerose società formalmente amministrate da una vasta platea di prestanome, è riuscito nell'ultimo ventennio ad assicurarsi un elevato numero di commesse pubbliche in tutta Italia. In particolare i finanzieri hanno accuratamente ricostruito le vicende di mala gestione che hanno condotto al crack del consorzio romano Aedars-Scarl, un consorzio che si era giudicato una serie di importanti appalti pubblici su scala nazionale indetta dall'ufficio del commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico della Calabria, l'aeroporto di Roma, l'ANAS SPA Sicilia, dalla regione Sardegna, dalla provincia di Reggio Calabria, da quelle di Siracusa, dal comune di Sessa Runca in provincia di Caserta, dal comune di Rosarno e dal comune di Ciampino per un valore complessivo degli appalti all'epoca già vinti pari a circa 120 milioni di euro. Per questo, il 10 marzo del 2015, Mollica è stato sottoposto a due distinte misure cautelari personali ed associato al carcere di Regina Celi nell'ambito dell'operazione di polizia denominata Variante in attesa. Gli investigatori documentarono anche i rapporti con Francesco Scirocco, affiliato ai barcellonesi, tra i soci fondatori dello stesso consorzio Aedars, e da Vincenzo Doriano, affiliato al clan camorristico dei Cesarano. Passano ora allo Stato quindi il patrimonio aziendale, i relativi beni di 10 società con sede a Roma, 4 società, di cui due con sede a Roma, una a Venezia ed una a Giosamarea, 4 unità immobiliari, 11 fabbricati e 29 terreni, ubicate a Roma, Varese e in provincia di Messina, 11 auto, rapporti bancari, postali, assicurativi, azioni, per un valore complessivo di 170 milioni di euro. Il giudice della prevenzione ha applicato a Mollica anche la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni.